Allora chef, facciamo vedere i nostri amici in presa proprio diretta. Cosa è questo? Cosa stai facendo? Musso, carcagnolo e mascellato. Spiegacelo agli italiani. Si mangia praticamente, sono i nervetti, la mascella del vitello che viene marinato con olio e limone, che prima si mangiava strigasale, con un po' di sale e soltanto, l'aggiunta di limone, io metto un po' di oliva. Si, e quindi questa è la marinatura? La marinatura del prodotto, che viene fatto con olio e limone, sale e pepe, un po' di oliva per dare la corposità. E questo qui come lo consumeremo? Questo lo consumeremo come al comasco. Come al comasco? Proprio così o aggiungendo qualcos'altro? Intanto, semplicissimo, così. Un po' di verdurina fatta in colcante, insieme un po' di pinocchio, un po' di cipolla e un po' di carotina, cortando la saccata. Va bene Carmelo, ora do un'occhiata e vediamo cosa voglio aver descritto ancora. Com quelli. Com? Com'è.